Allora Stelle, oggi abbiamo come ospite un avvocato molto prestigioso, l'avvocato del Napoli Buongiorno, sono Marcello Capuano, buongiorno a tutti, io sono un grande avvocato, amico di De Laurenti Buongiorno, lei chi quindi si presenti? Sono Marcello Capuano, l'avvocato della F.C.A.S.N.C. Napoli Il Marcello, allora, dica, quindi è chiuso il caso Ozyman? Basta? Chiuso, non hanno trovato niente Sì, ma prima vi voglio dire che io sono un avvocato storico, sono bravo, se volete cause Le posso offrire un caffè? No grazie, ho la cistifele Io volevo dire che Marcello Capuano, sono un avvocato famosissimo, ho fatto tante cose No, ma io proprio i tribunali, io me li mangio i tribunali, ha capito? Sì, ho capito, ma ci dica del... Ah è, sto dicendo... Ci dica della cosa Ozymane Ma fanno poche pubblicità, no, non so, sono proprio il tuo canale qua Io sono Marcello Abbiamo capito che lei è un avvocato molto prestigioso Vabbè, 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 vabbè Su Ozymane, decreto... Tanti stanno parlando... L'ha m'ha cattato con decreto crescita, non c'è niente di plusfair Non c'era niente Non c'è niente, non c'è niente Devono fare... Ha acquistato con il decreto crescita? Decreto, sì, tutto a po' Devono mettere altre castagne in drugalderone Che cazzo? Hai capito, ma ci sono? Quelli là Lo dica Eh, quelli là fanno tutti... Lo dica, lo dica Non mi fate parlare perché sono avvocato e so come funziona Lo dica Ecco, quelli là, quelli... Solo loro fanno le porcherie Ha capito? Lo dica E quindi dobbiamo essere tutti come loro E quegli altri lì? Gli altri lì, non ho capito L'avvocato... Grazie, grazie per essere... Lei deve scappare Devo andare, devo andare Scusate... L'avvocato Marcello Capuano Marcello Capuano Trovami su internet e ti faccio vingere tutti Ha detto tutto ragazzi, eh Che è molto impegnato di scappare Ha detto... Attenzione